L'alto rappresentante della politica estera europea, Josep Borrell, nel corso di una visita a Kiev si è detto sorpreso della decisione del congresso americano di tagliare dal bilancio provvisorio gli stanziamenti previsti per sostenere lo sforzo bellico dell'Ucraina. L'Assemblea americana prenderà una decisione definitiva entro metà novembre. Nel corso di una recente visita a Washington il presidente ucraino Zelensky aveva ricevuto rassicurazioni da Biden in merito al sostegno americano. Nel corso della sua visita a Kiev Borrell ha incontrato tra gli altri il ministro della difesa ucraino nonché i rappresentanti di alcune organizzazioni non governative che operano nella nazione europea.